Il Papillon Story riserva davvero tante sorprese, la lascio a Miss Valdimerze come una delle più belle Miss che ha partecipato al concorso di quest'anno, sempre al Papillon e la ritrovo al Papillon Story. Chi è lei? Ciao, io sono Silvia Brunelli. È stata una scoperta perché non la conoscevo assolutamente e è stata veramente una sorpresa per me e vi dico che il Papillon attraversa tutta l'Italia perché Silvia non è toscana, viene dalla... Sardegna. Senti, come ti stai trovando stasera? Benissimo. Hai già mangiato qualcosa? Sì. Che cosa? La lasagna e adesso la pasta. Te sei giovanissima e ti trovi in un ambiente che non ha età, quindi va bene anche per i giovani come te il Papillon Story. Sì, certo. Lei è una garanzia, ci ha portato dei dolci per Miss e Mister Valdimerze che ancora me le ricordo, quindi siamo in debito con Silvia. Gli facciamo gli auguri e la riaspettiamo al prossimo Papillon Story il 16 di gennaio. Va benissimo. Grazie, un bacio. Ciao. 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 Ciao.